Ciao, benvenuto all'aggiornamento ciclico sulla commodity e rame. Partiamo immediatamente con la nostra analisi. Ovviamente prima ti chiedo di mettere un like alla mia analisi se non l'hai ancora fatto e mi raccomando iscriviti al canale YouTube se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato con le mie analisi e con i miei eventi di trading live del mercoledì. Vado ad elevare un attimo i miei immobili cicli che è giusto per avere un po' più pulizia di grafico. Allora, via ciclo da 40 giorni e cerchiamo di vedere se abbiamo ancora una uniformità per quanto riguarda la durata dei cicli da 40 settimane e direi assolutamente sì, come puoi vedere la durata media dei cicli è abbastanza simile una con l'altra. L'unica variazione riguarda l'ultimo ciclo concluso da 40 settimane che lo vediamo anche ad occhio ha una durata leggermente superiore agli altri. La media di totale durata rimane comunque di 267 giorni. Questo ciclo è probabilmente arrivato quasi a fine corsa per quanto riguarda la varianza che abbiamo a disposizione da utilizzare. Il picco del ciclo da 40 settimane era previsto per la data del 1 maggio 2024 e il mercato è andato a effettuare il massimo nella data del 21 maggio. Quindi direi che su 40 settimane, ossia bellezza di 120 giorni, direi che una decina di giorni di scostamento sono più che la precisione, diciamo, perfetta. E ti ricordo che questo picco che vedi è un picco che non si è adattato dopo. Questa è la proiezione di questo ciclo qua. Quindi è assolutamente una previsione perfettamente rispettata dal mercato. Andiamo ad aggiungere in questo caso anche i cicli da 40 giorni così abbiamo una componente un po' più lavorabile. Il ciclo da 40 giorni vedeva un suo possibile minimo intorno alla data del 22 maggio e al momento il mercato, vedete che qui l'aveva anche fatto in realtà, poi ha provato a risalire ma è stato subito respinto verso il basso. Non possiamo ancora considerare chiuso questo ciclo da 40 settimane facendo nel frattempo la lavagna che mi ero dimenticato di accendere per poter ovviamente rendere l'analisi un po' più semplice scrivendo. Eccola qua che è arrivata. Quindi non possiamo aggiornare questa trendline di circa 40 giorni fin quando il minimo non verrà confermato. Il prossimo picco che noi potremmo andare a lavorare è previsto intorno al 10-12 di giugno e quindi vale a mio avviso la pena rimanere un attimo in attesa. Siamo sul livello di supporto molto importante. Prima di vedere che cosa dobbiamo cercare per i prossimi giorni una breve presentazione di chi sono. Io sono Paolo Pisino, sono un trader dal 2007. Mi puoi trovare sul sito www.tradingpertutti.com Stiamo parlando di 17 anni di mercati finanziari. Ti invito a unirti al mio canale Ethereum gratuito video analisi gratuite su indici, forze, azioni, commodity e criptovalute e anche setup e analisi intraday. Servizio di segnali intraday e multiday qui puoi vedere i risultati andando su performance maggio se chiuso bene a parte un DAX negativo di 153 punti che infatti a metà mese ho comunicato che non sarà più lavorato è un indice che a mio avviso è diventato veramente una schifezza Nasdaq molto bene a 206 punti Down Jones un solo trade fa portato a break even 3 punti Gold 45 punti Petrolio 97 Gold in una sola operazione Petrolio con 4 operazioni e 2 in stop ben 97 punti di profitto e poi Bitcoin Regina del mese di maggio con 3196 punti Ti ricordo che il costo dei segnali intraday e multiday è di soli 49 euro al mese o 129 euro trimestrale per tutti questi strumenti Il cuore di tutta la mia operatività è l'indicatore Voltan un indicatore che pensate per poterlo realizzare ha richiesto 10.000 righe di codice per metà trader ricordo che metà trader dal punto di vista dell'analisi tecnica è veramente una schifezza è rimasta 30 anni fa ma non esiste piattaforma che sia paragonabile mentre trader 4 o 5 per quanto riguarda la possibilità di realizzare tutto ciò che si vuole quindi il trader al metodo il programmatore lo mette a mercato Voltan è l'unico indicatore esistente in grado di prevedere il futuro movimento dei mercati analizzando il passato e proiettando però nel futuro che cosa farà il mercato ti evita il conteggio delle candele che rende l'analisi ciclica un'analisi 100% discrezionale perché contare le candele in un modo o nell'altro si cerca di fare tornare e quadrare i conti di quello che ci si aspetta l'indicatore invece lavora per te sul canale youtube che stai utilizzando in questo momento per guardare le mie analisi ti invito ad andare a vedere il corso di analisi ciclica gratuito 40 ore di formazioni completamente gratis per conoscere l'unico metodo che è in grado di prevedere che cosa farà i mercati ossia l'analisi ciclica quello che ti dà il timing per poter entrare nel momento giusto sui mercati tutti i mercoledì mi raccomando alle ore 15.30 faccio il trading dal vivo la smissione può durare un'ora come tre ore e mezza settimana scorsa se c'è l'opportunità faccio l'operazione quindi non sono tre ore di chiacchiere ma tre ore di formazione completamente gratis inerente all'analisi ciclica volumetrica e price action e ovviamente anche operatività se chiaramente ci sono i setup per poter entrare al mercato anche questa cosa qua la trovate praticamente solo su il mio canale torniamo alla nostra analisi quindi abbiamo detto che abbiamo una componente di fondo ribassista guardiamo se abbiamo una trendline del ciclo a 20 giorni a poter tracciare basta andare a isolare il ciclo dei 20 giorni io tolgo tutto e lascio solo il ciclo a 20 giorni non abbiamo minimi in realtà si è questo qua quindi minimo del ciclo scusatemi stavo mirando sbagliato questo ciclo da 20 giorni in realtà è già confermato quindi lo possiamo tracciare così ed è questa una trendline molto importante per quale motivo? perché la rottura e il ritest di una trendline ciclica è poi un ottimo segnale per poter entrare al mercato quindi adesso andiamo intanto a togliere 20 giorni rimettiamo i 40 giorni e quindi attendiamo che il mercato possa andare a ritestare la trendline per cercare una condizione di ribasso a questo punto qua sarà possibile cercare le proprie occasioni per entrare al mercato o sulla rottura di tutto questo bel blocco di volume quindi il bel livello di supporto che vede come prezzo più basso 4 dollari e 49 oppure attendere una configurazione tecnica sull'altra trendline e poter andare a prendere direttamente la fase ribassista ovvio che bisogna sperare in questo caso perché non possiamo sapere cosa fare al mercato che tutto ciò venga vicino alla data del 12 giugno e non si protraga eventualmente una lateralità oppure un salto di fase per troppo tempo che quindi causi poco tempo a disposizione per un ribasso questo direi che per quanto riguarda il copper è tutto è inutile stare a sprecare tempo a fare altre tipologie di analisi perché l'unica analisi che conta per quanto riguarda la possibilità di identificare in anticipo che cosa farà il mercato la dà l'analisi ciclica e soprattutto è possibile ottenerla solo con lo strumento da me ideato con questo direi che è tutto ti auguro una buona domenica ciao ciao